Fare il punto della situazione e programmare monitoraggi, analisi ed interventi di messa in sicurezza. Questi gli obiettivi della riunione tenutasi ieri sera in Regione Abruzzo a Pescara per l'emergenza di scarica di Colle Marconi di Chieti. Arta e Istituto Zooprofilattico di Teramo dovranno analizzare i ruscellamenti, i fumi e gli inquinanti atmosferici, oltre a definire eventuali rischi per la salute umana legati agli alimenti. Da parte della Regione invece c'è l'impegno alla compartecipazione delle spese che il Comune di Chieti dovrà sostenere per la rimozione e l'allontanamento dei rifiuti, il Sindaco di Chieti Umberto Di Primio. Abbiamo necessità di intervenire per mettere in sicurezza l'area, per far questo abbiamo avuto necessità di avere autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria. Chiaramente c'è la vicenda legata al proprietario di quella di scarica e a chi ne aveva la gestione, quindi noi interverremo sì ma lo faremo in sostituzione dei proprietari perché sono loro che dovranno pagare i costi di questo intervento da parte del pubblico. E poi c'è il capitolo più importante, quello che regna su tutto che è la salute dei cittadini. Bonificare l'area, dare la possibilità ai cittadini di avere certezze su quello che stiamo vivendo, sono gli obiettivi che ci siamo posti. In qualche modo era una tragedia che però si sarebbe potuta evitare magari anche con un maggior controllo. Possiamo evitare o possiamo pensare che qualcuno vada ad ingegniare una discarica? Non credo che siano queste le ipotesi da farsi. C'è da capire certamente, questo l'ho chiesto anche io ai miei uffici, da capire chi avrebbe dovuto fare qualcosa rispetto ad una discarica, i cui reati sono stati contestati nel 2007 e poi andati a processo nel 2009 e decisi nel 2012. Ma oggi tutto questo è ancora subiudice perché siamo ancora in attesa del ricorso per cassazione proposto dall'imputato.